Benvenuti a TeleCRU, notiziario settimanale dell'Assemblea legislativa dell'Umbria. L'Assemblea ha approvato all'unanimità una mozione che mira al riconoscimento della sensibilità chimica multipla quale patologia rara e conseguentemente alla previsione di strumenti specifici percorsi per la diagnosi e la cura di tale patologia nell'ambito del sistema sanitario regionale. L'atto approvato all'unanimità dall'Aula di Palazzo Cesaroni deriva dalla proposta di legge dei consiglieri Chiacchieroni, Rometti, Nevi, De Vincenzi e Casciari e prevede un centro di riferimento per la cura e la diagnosi identificato nella struttura di Tor Giovannetto sul Monte Subasio, dato che questi pazienti non possono recarsi in comuni presidi ospedalieri senza rischiare di aggravare i propri problemi di intolleranza e prende in considerazione il tema della ricerca da poter svolgere anche insieme ad altre regioni su questa malattia. La sensibilità chimica multipla è una sindrome immunotossica infiammatoria simile per certi all'allergia, molto spesso quindi scambiata con essa, poiché i sintomi appaiono e scompaiono con l'allontanamento della causa scatenante. Ma le sue dinamiche e il suo decorso sono completamente diversi. Si perde per sempre la capacità di tollerare gli agenti chimici, già dal primo stadio. È una sindrome multisistemica di intolleranza ambientale totale alle sostanze chimiche, che può colpire vari apparati e organi del corpo umano. Le sostanze chimiche danneggiano il fegato e il sistema immunitario, sopprimendo la mediazione cellulare che controlla il modo in cui il corpo si protegge dagli agenti estranei. I sintomi si verificano in risposta all'esposizione a molti composti chimici presenti nell'ambiente, insetticidi, pesticidi, disinfettanti, profumi detersivi, vernici, solventi, inchiostri, farmaci, prodotti plastici, fumi di stufe, tutto ciò che è di derivazione petrolchimica, in dosi anche di molto inferiori da quelle tollerate dalla popolazione in generale. In Umbria circa 50 persone sono affette da questa malattia. È stato il presidente della Commissione Sanità Attilio Solinas a illustrare in aula la mozione, mentre l'assessore alla sanità Luca Barberini ha ricordato che l'inserimento fra le malattie rare non è di competenza della regione, ma deve essere effettuato dal Ministero della Salute. Tuttavia, ha aggiunto l'assessore, non vogliamo lasciare abbandonati circa 50 malati umbri o costringerli a recarsi all'estero per ottenere cure adeguate. Quindi abbiamo individuato nella struttura sul subasio, in ambiente salubre e privo di fumi, polveri e odori, un centro di riferimento adeguato per loro. Una prima risposta al problema, ha detto l'assessore Barberini, che vorremmo far seguire da una serie di relazioni con le altre regioni che stanno a loro volta creando centri di riferimento per sviluppare un'adeguata ricerca scientifica che conduca all'obiettivo del riconoscimento della malattia e alla fondamentale raccolta di dati epidemiologici. Audizione della prima commissione consigliare sulla situazione patrimoniale e economica della società Umbria TPL e Mobilità. La prima commissione dell'Assemblea legislativa dell'Umbria, preseduta da Andrea Smacchi, si è riunita per una serie di audizioni volte ad analizzare la situazione patrimoniale ed economica e le prospettive di sviluppo della società Umbria Mobilità. A Palazzo Cesaroni sono stati ascoltati prima il presidente della società Lucio Caporizzi, accompagnato dal direttore amministrativo Raffaella Dio Sono, e poi il presidente del collegio sindacale Paolo Chifari, con i membri del collegio Giovanni Fulci e Carmelo Campagna e il revisore unico Filippo Mangiapane. Caporizzi ha sottolineato che il bilancio 2015 non è ancora stato approvato dall'Assemblea dei Soci, ma il progetto di bilancio è stato approvato dal CDA. È stato poi approntato un piano di ristrutturazione che tende a prefigurare le condizioni per la continuità aziendale. I presupposti del piano sono l'assoluzione del contenzioso fiscale, la moratoria dei debiti con le banche e di quelli con la regione, l'incremento del corrispettivo per la manutenzione ferroviaria dell'ex FCU almeno di un milione e mezzo. Stiamo lavorando sul recupero dei crediti, ha detto, nel tempo maturati con la commessa romana. Si tratta di 14 milioni di euro per Roma TPL e 32 milioni nei confronti del consorzio Cotri. Negli ultimi quattro anni l'indebitamento si è ridotto del 50%, il trasporto pubblico su gomma non ha avuto un giorno di stop, è stata gestita la vendita con una plusvalenza di 28 milioni di euro. È stato messo in sicurezza il trasporto su gomma, le fideiussioni sono state ridotte e si è iniziato a recuperare i crediti. I membri del collegio sindacale hanno detto che il 21 febbraio ci sarà una riunione del Consiglio di Amministrazione per l'approvazione di un aggiornamento della bozza del bilancio 2015 da sottoporre all'Assemblea dei Soci. Con la prospettiva dell'Agenzia Unica Regionale per la Mobilità non dovrebbero esserci problemi per la continuità aziendale. Il piano di rientro con il Consorzio Cotri è partito ad ottobre con rate ad importo crescente spalmate su cinque anni. La cosa rilevante hanno sottolineato è che i crediti sono stati riconosciuti. Il percorso che stiamo facendo è derivato dalla situazione pesantissima che abbiamo ereditato da ATM ed FCU. Comunque dal 2013 al 2015 c'è stato un miglioramento dell'indebitamento complessivo di 112 milioni di euro e nel 2016 prosegue il trend positivo. I consiglieri della Lega, Fiorini e Mancini, hanno presentato la loro proposta di legge che mira a far assegnare gli alloggi di edilizia residenziale pubblica a chi risiede in Umbria da almeno cinque anni. La proposta di legge originaria prevede l'assegnazione di case popolari a chi risiede o lavora stabilmente in Umbria da almeno dieci anni modificando la legge 23. Però, preso atto dei rilievi costituzionali già espressi in precedenza, l'orientamento dei proponenti sta dirigendosi verso il termine di cinque anni, come in analoghi provvedimenti già intrapresi dalle regioni Toscana e Lombardia. La proposta di legge vuole anche estendere ai coniugi separati la possibilità di accedere all'edilizia popolare perché, ha spiegato Fiorini, ci sono padri separati che sulla carta sono possessori di immobili quindi non possono accedere ma di fatto dormono nei garage o nelle macchine. Inoltre si propone di fissare un altro paletto fra i requisiti essenziali, il non possesso di immobili anche situati all'estero. Il consigliere Mancini ha chiesto anche di sapere quanti sono gli alloggi disponibili, quanti sono in uso e chi ci abita per capire come mai in alcuni comuni figurano in graduatoria solo cittadini stranieri e ha citato il caso di Città di Castello, 25 alloggi popolari assegnati a 25 famiglie straniere. Non è una questione ideologica, ha spiegato Mancini, ma un atto dovuto ai cittadini umbri in difficoltà, a chi non ha un reddito dignitoso. Si vuole evitare che gli alloggi pubblici vengano assegnati a soggetti che non abbiano un legame sufficientemente stabile con il territorio, rendendoli comunque inutilizzabili per altri soggetti aventi diritto e frustrandone in tal modo la funzione socioassistenziale. Alla seduta della terza commissione, presieduta dal vicepresidente Sergio De Vincenzi, hanno preso parte per la giunta regionale Diego Zurli, Giuliana Mancini e Lauro Marinelli che hanno espresso la non contrarietà dell'assessorato, ma anche qualche dubbio sul requisito dei cinque anni di presenza sul territorio, che potrebbe frenare il flusso di arrivi nella regione, per esempio, di lavoratori pendolari o degli studenti che non avrebbero accesso agli alloggi popolari perché non residenti da almeno cinque anni. Rilevate anche difficoltà oggettive sulla possibilità di accertamento di eventuali immobili posseduti all'estero da cittadini stranieri. Al termine della seduta si è deciso di approfondire l'argomento alla luce dei dati riguardanti il numero degli alloggi popolari disponibili e delle domande, a partire dalla considerazione che via necessità di almeno 6.000 case popolari per le esigenze degli Umbri. Continua la ricognizione sulle vecchie strutture ospedaliere dismesse avviata dalla prima commissione. Dopo il complesso dismesso di città di Castello è stata la volta di gubbio. Il sindaco di gubbio, Filippo Stirati, ha partecipato all'audizione della prima commissione sul riutilizzo dell'ex ospedale della città, illustrando ai consiglieri regionali i contorni di quella che ha definito una vicenda tormentata. La struttura settecentesca si estende per circa 9.000 metri quadrati in un'area molto importante per il tessuto cittadino tra il centro storico e la nuova urbanizzazione. Il sindaco ha spiegato che circa la metà dell'edificio verrà destinato a funzioni sanitarie con una casa della salute in fase di avanzata progettazione. Nell'altra parte del palazzo, o comunque in gran parte di essa, dovrebbero trovare posto tutti gli uffici comunali. L'obiettivo è anche di recuperare la perdita sociale ed economica causata dallo spostamento dell'ospedale Abranca. Nella parte sud della struttura c'è infine un'area che potrà essere adibita a terminal degli autobus, che così potranno essere spostati da piazza 40 Maltiri. Stirati ha concluso evidenziando che per il comune esiste il problema di reperire i 5 milioni di euro di cofinanziamento necessario, che i vincoli della legge di stabilitare hanno complesso attivare anche attraverso un mutuo. A conclusione dei lavori, Andrea Casciari, direttore dell'azienda USL Umbria 1, ha precisato che la gara per la progettazione della casa e la salute è stata fatta e nel giro di 5 mesi si dovrebbe arrivare alla gara per i lavori, che ammonteranno a 3 milioni di euro e potrebbero terminare entro la fine del 2019. Anche per questa edizione è tutto, vi ricordo, TeleCR1, notiziario settimanale dell'Assemblea legislativa dell'Umbria, va in onda sulle emittenti televisive di tutta la regione, è disponibile anche in rete sul sito istituzionale consiglio.regione.umbria.it e naturalmente su YouTube. Grazie per la vostra attenzione, arrivederci.